Il pasto per il pepe non è imbottito o come si dice a Napoli UPUPARULO IMBUTTUNAT stiamo parlando di piccole bombe atomiche macinato di vitello e di suino provola, salame, uova, un filo d'olio e un po' di parmigiano e scoppieranno nel forno ed ecco di qua la poesia in cucina certo non è una cucina light ma è uno spettacolo ultimo step li abbiamo capovolti oppure visto che è un piatto tipico napoletano li abbiamo accappottati l'articolare del peperone opera finita